Ciao amici di Taliato Games, buongiorno, sabato 23 dicembre, buona antivigilia di Natale, oramai ci siamo, finalmente arrivano le feste, un po' di riposo, un po' di meritato riposo, me lo dico da solo, ma vi continuo a proporre contenuti anche in questi giorni, durante le prossime due settimane cercherò la sera, ci sarà sempre un contenuto di gioco, la mattina cercherò di starci sempre, ma non vi garantisco 14 video, cercherò di farne il più possibile, ma anche sugli orari, ecco, siate un pochino flessibili anche voi. Comunque, oggi il contenuto c'è, me lo avete chiesto in tanti, ed eccolo qui, una riflessione, uno spunto di discussione su quelle che potrebbero essere le ripercussioni di quanto accaduto in questi giorni sulla decisione della Corte Europea sulla Superlega in merito ai videogiochi. Bisogna essere subito chiari, allora non parlerò di Superlega in sé, perché queste sono cose che poi accendono le discussioni infinite e poi tanti altri già ne hanno parlato, io parlerò di possibili ripercussioni nel mondo dei videogiochi. Ovviamente è prestissimo per dire qualsiasi cosa, perché ci sarà da vedere se la Superlega prenderà forma, come prenderà forma, come saranno i rapporti con la UEFA e la FIFA. Per il momento possiamo soltanto ipotizzare delle cose e iniziare ad immaginare degli scenari, magari non cambierà proprio nulla, magari Real Madrid e Barcellona, che sono i principali fautori della Superlega, che sono rimasti a difendere il progetto, utilizzeranno questa sentenza per ottenere delle cose dalla UEFA o dalla FIFA. Insomma, è tutto da vedere, però visto che in tanti mi avete chiesto un'opinione, un parere sulla Superlega in relazione ai videogiochi, ai football, ai sport FC, ai UFL, al potenziale gioco della FIFA, di cui si sono perse le tracce, a Football Manager, ho deciso di fare questo contenuto. E allora andiamo, cerchiamo anche di fare un discorso analitico, vedendo un attimo tutti gli elementi. Iniziamo subito con il dire una cosa. In questo momento, se noi sui football abbiamo tutti i giocatori, li abbiamo su Football Manager, li abbiamo anche in eSport FC, perché alcuni club sono esclusiva di football, pochi ma sono esclusive. Se abbiamo in Football Manager, anche in Sociable Soccer, l'abbiamo visto questa settimana, tutti i giocatori, è solo per una ragione. Qui vabbè, avevo mostrato un attimo come dovrebbe essere la Superlega, si parla di 16, 16 e 32 squadre, ma preferisco evitare parlarne perché tanto stiamo parlando di ipotesi, di teorie che per il momento sono lontane dal diventare realtà e non è detto che diventano. Dicevo, la cosa importante è questa, la FIF Pro. La FIF Pro è l'associazione, il sindacato dei calciatori che rappresenta oltre 13.000 giocatori in tutto il mondo. Non rappresenta tutti i giocatori al mondo, perché ad esempio in Brasile non c'è un sindacato, ogni giocatore se la vede per sé. Negli Stati Uniti c'è un sindacato a parte, però diciamo che il buon 90%, anche 95% dei giocatori che contano al mondo, sono rappresentati dalla FIF Pro Europe. E allora, questo è il comunicato ufficiale in inglese, io lo sono andato a tradurre in automatico, ed è la presa di posizione della FIF Pro dopo la sentenza sulla Superlega. E si legge, le decisioni eterne della Corte Giustizia Europea rappresentano un momento importante per rafforzare il luogo dei diritti ai giocatori nello sport e riaffermare la piramide calcistica europea basata sulla solidarietà. I calciatori professionisti condividono una responsabilità congiunta per le strutture di governance collettive, in particolare per quanto riguarda le decisioni che influenzano il mercato del lavoro e quindi le loro condizioni di lavoro, opportunità di lavoro e welfare. FIF Pro Europe accoglie pertanto un favore alla posizione della Corte per quanto riguarda lo stato di diritto, i diritti fondamentali degli attori e dei lavoratori, come ad esempio la libertà di movimento dei lavoratori, le sanzioni in debita sui lavoratori e il loro diritto a cercare opportunità di lavoro. Si tratta di un processo di riforma che è già iniziato e che continuano a portare avanti insieme alla UEFA e ad altre parti interessate. In linea con i giocatori che erano fermamente contrari i principi iniziali del progetto Superlega europea, FIF Pro Euro rimane convinta che le competizioni aperte e il merito sportivo non siano solo la pietra angolare della piramide calcistica a livello nazionale ed europeo, ma anche fondamentali per garantire un vivace mercato del lavoro con percorsi di carriera e opportunità di lavoro per tutti i soggetti. Insieme ai calciatori all'Unione Nazionale dei Giocatori, FIF Pro Europe auspica di rafforzare il proprio ruolo di partner contrattuale per questioni relative all'occupazione e alla governance collettiva dell'industria del calcio professionistico, un modello piramidale sotto la UEFA e accanto a leghe, club, tifosi, istituzioni dell'Unione Europea, governi e altri partner. Insieme continueremo le discussioni con la Barathea per sostenere lo sviluppo del calcio a tutti i livelli, con particolare attenzione alla salvaguardia e al miglioramento di soliti standard lavorativi per ogni giocatore in tutta Europa. Il nostro obiettivo principale è migliorare il benessere e le condizioni del lavoro dei giocatori a tutti i livelli, affermato il presidente della FIF Pro Europe, David Terrier. Sosteniamo con forza autotelare al mercato del lavoro i campionati nazionali del merito sportivo e del modello piramidale. Rispingiamo qualsiasi piano volta a minare unilateralmente il tessuto sociale e culturale del calcio sportivo e a minacciare le opportunità di lavoro per i giocatori, come la proposta di una supervisione europea league, la Superlega. Oggi più che mai le decisioni collettive devono dare priorità alla tutela dei giocatori, alla partecipazione equa e alla sicurezza dell'occupazione senza eroderle. Continueremo su questa strada con la UEFA e le parti sociali. Insomma, da come si legge qui, la FIF Pro sembrerebbe molto contraria alla Superlega. Scusate, voglio andare a vedere il documento ufficiale. Ecco, qui se vedete la fine, rigettiamo ogni piano come la proposta di una Superlega europea. Quindi, sostanzialmente, la FIF Pro si dichiara per lo status quo attuale, sostanzialmente, quello della FIFA e soprattutto dell'UEFA per quanto riguarda i club. Quindi, sostanzialmente, se quello che ci interessa per noi videogiocatori, per avere Salah, Mbappé, Haaland, Chiesa, Ozymane, Leao, in tutti i giochi di calcio, sembrerebbe che non dovrebbe cambiare molto, almeno da questa decisione iniziale della FIF Pro. La FIF Pro rimane lì, tutti i giocatori stanno nelle squadre, eccetera, eccetera. Poi dopo staremo a vedere. Però, da questo punto di vista, non dovrebbe cambiare molto, almeno in questo momento. contro la Superlega, la FIF Pro, non so, manco, cioè, i giocatori che andrebbero a giocare nella Superlega, stando così, magari sarebbero anche fuori dalla FIF Pro, e allora dopo lì diventa un problema. Perché allora a quel punto, a quel punto i giocatori che entrano nella Superlega sarebbero in un gioco della Superlega, videogame. Ecco quale potrebbe essere il problema. E quindi, non so, faccio un nome così. Zigze del Bologna va a giocare nel Barcellona che fa la Superlega e non fa più gli altri eventi. Zigze non sarebbe più negli altri giochi di calcio se la posizione della FIF Pro rimane questa. Insomma, è tutto da vedere e da scoprire. Io, la mia speranza da videogiocatore è che la FIF Pro rimanga unita, che abbia tutti i diritti di tutti i giocatori e che possiamo continuare a giocare con tutti i giocatori in tutti i videogiochi di calcio. Però vedremo, vedremo, vedremo quello che accadrà. Questa è la posizione della FIF Pro, comunque. Ovviamente, ovviamente, se da una parte c'è la Superlega, dall'altra c'è il conglobato tra FIFA e UEFA che si stanno muovendo all'unisono. E qui si apre un capitolo. Metti caso che mettiamo l'ipotesi più estrema. La Superlega decide di andare avanti. Si mettono Real Madrid, Barcellona, altre sei, sette, otto, un po' di squadre. E la FIFA UEFA va per conto suo e dichiara, tra virgolette, fuori, dichiara apertamente l'ostilità nei confronti della Superlega. A quel punto nascerebbero due entità separate, parallele e disgiunte del mondo del calcio. E a quel punto cosa succederà? Ci sarà il videogioco della Superlega con giocatori professionisti fuori dalla FIF Pro, fuori da tutto. E di qua il gioco, un gioco come adesso e Sport FC, che ha tutti i diritti dell'UEFA, potrebbe succedere questo. La situazione più particolare potrebbe essere quella che c'è attualmente, giocatori della FIF Pro in tutti i giochi. Il gioco che ha i diritti dell'UEFA, quelli della FIFA, staremo un po' a vedere ai prossimi mondiali. Voglio proprio vedere dove la FIFA farà disputare i mondiali. non manca poi tantissimo, mancano un paio d'anni, oramai due anni e mezzo. E poi ci potrebbe essere il gioco della Superlega, perché a questo punto non vedo altre possibilità. Cioè l'altra possibilità sarebbe che nasce la Superlega non in contraposizione con la FIFA e UEFA, ma è molto difficile da immaginare. Cioè in questo momento i due organismi, tantissime squadre, eccetera eccetera, si dichiarano contrarie. Tra l'altro l'UEFA fa presente che nella sentenza dei giudici c'è solo una questione economica, ma ci sono anche altre questioni sul discorso. Quindi è difficile da capire a lungo termine cosa potrebbe accadere. Cioè può accadere di tutto sostanzialmente. Bisogna vedere quali saranno i rapporti di forza. La maggior parte delle squadre, anche di rang importante, che facevano parte del primo progetto di Superlega e si sono tirate indietro. Milan e Juve non dicono nulla. Il Napoli si dice aperturista, ADL sostanzialmente si dice aperturista. Le uniche in questo momento che hanno raccolto questa vittoria sono da una parte il Real Madrid con anche il video promozionale, così dire, del presidente che parla di una Superlega in cui le partite sarebbero tutte gratuite. Chiaramente questo ai tifosi non è che dispiace, ma è tutto ben da vedere. Il Barcellona, Andrea Agnelli per la Juve, no per la Juve, lui stesso che ha in maniera con canzoni ed altre cose, espresso la sua felicità per la dichiarazione della corte europea. Insomma è tutto molto da vedere. Però ecco, qualcuno nel passato, Virgin Interactive, ai tempi della prima PlayStation, magari ci ha visto giusto da lontano, 20-25 anni prima. Perché uscì un videogame, che io non ricordo, se qualcuno di voi se lo ricorda fatecelo sapere, che sostanzialmente ci aveva visto lontano e ha creato quest'European Super League con 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 squadre. Marsiglia, PSG, Bayern Leverkusen, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Liverpool, quello per il Chelsea, Olympiacos, Inter, Ajax, Juventus, Milan, quello mi sembra il Benfica, Barcellona, Milan e questo IFK non lo riconosco. Beh insomma c'era già il gioco della Super Lega ben prima della Super Lega di come ne stiamo parlando oggi. Succederà questo? Succederà che ci sarà un gioco della Super Lega a parte oppure magari non sarà a parte, si integrerà in qualche modo con il mondo dell'UEFA e con il mondo della FIFA. È tutto da vedere, però come dire dal passato vediamo una possibilità, ci potrebbe essere anche questa possibilità, potrebbe uscire un gioco della Super Lega oppure magari ESport FC diventa il gioco della Super Lega oppure ESport FC perché diciamolo tanto i rapporti di forza sono quelli e al momento ESports domina in contrastata da un punto di vista delle licenze, magari ESport FC avrà la Champions e avrà anche l'European Super League come due modalità disgiunte. È tutto da vedere, ripeto, prima di tutto se nasce la Super Lega, è chiaro, se nasce la Super Lega se sarà comunque all'interno di qualcosa che non va in contrapposizione, in divieti che potrebbe creare l'UEFA e la FIFA, perché è tutto da vedere, cioè la sentenza non è che da carta bianca, cioè la FIFA e la UEFA farebbero di tutto per bloccare questo progetto. Insomma è tutto da vedere, però io a me la cosa che mi interessa di più come videogiocatore è che questa possibilità di giocare con tutti i giocatori che ci viene data solo ed esclusivamente, ve lo ripeto ragazzi, solo ed esclusivamente per i diritti che i vari giochi acquisiscono alla FIFA Pro rimanga. Altrimenti sarebbe davvero un peccato dover giocare un gioco con tutti i giocatori, tranne i giocatori della Super League e un gioco con solo la Super League. Questo sarà, secondo la mia opinione, l'elemento più importante da un punto di vista dei videogiochi. Cosa succederà con la FIFA Pro? Se la FIFA Pro continuerà a tutelare i diritti dei giocatori anche di una eventuale Super Lega, allora non ci sono problemi, allora poi tutto quello che accade accadesse. Però ecco, se invece i giocatori che partecipassero a un'eventuale Super League uscerebbero dalla FIFA Pro e allora sarebbero cavioli amari ragazzi. Significherebbe che in un gioco o si possono mescolare e ci sarebbero, non so, Konami, la software di Sociable Soccer, Sports Interactive per Football Manager dovrebbero contrattare i diritti sia per dei giocatori della Super League e potrebbero essere anche individuali perché stiamo parlando dei super top player in teoria e quelli della FIFA Pro oppure non lo so. Insomma, un bel casino, un bel casino ma vedremo, vedremo. In questo momento, vi dico la verità, vedo solo problematiche per i videogiochi se si creassero due entità separate. Ci potrebbe essere il gioco della Super Lega ma, ripeto, per i giochi, per il Dream Team, per l'Ultimate Team, per Football Manager eccetera eventuali spaccature e divisioni nel sindacato dei giocatori potrebbe solo provocare problemi potrebbe anche essere delle opportunità per le software house magari Konami, esempio, dentro il gioco della Super Lega o magari entra un nuovo competitor e fa il gioco della Super Lega a parte oppure, ripeto, gli esports si prende anche i diritti ma la UEFA dopo accetterà di stare nel gioco insieme alla Super Lega capite? Sarà tutto da vedere sarà tutto da vedere spero di essere stato chiaro è chiaro che questo discorso ne fa nascere tanti altri tante volte si creano dei frantendimenti ma cercherò di rispondere anche ai vostri commenti per spiegare un attimo le mie posizioni sull'argomento che comunque, ripeto, non riguardano la Super Lega riguardano tutto quanto quello che riguarda appunto il mondo dei videogiochi ragazzi per il momento è tutto io vedo appuntamento questa sera nella mia rincorsa alla divisione 2 nel campionato alle ore 20 domani mattina faccio un mare di giri gratis ce ne sono 6 e poi se mi gira probabilmente farò anche qualche giro per i giocatori della settimana perché ce n'è più di uno che mi interessa per il momento ragazzi vi auguro un buon fine settimana il buon fine settimana natalizio che dura tanto perché dopo c'è lunedì che è Natale martedì che è Santo Stefano buona giornata, buon tutto e fatemi sapere cosa ne pensate delle opinioni espresse in questo video ciao